Tu, se vuoi essere il numero uno, devi essere il campione della UFC. Ci sono quelli che invece scendono a compromessi e dicono vado da un'altra parte e mi danno molti più soldi. Io, come sono, se vedo che non posso entrare nel numero uno, probabilmente non sono neanche motivato ad andare avanti. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Il tuo sogno era entrare in UFC. Oggi qual è? Vincere la cintura e portare un evento UFC in Italia.